Ci è piaciuto tantissimo. Bellino ok, pranzo. Ok. Nuova gara di Special Olympics, questa volta in piscina. La prima gara dell'anno. Sì, questa è la prima gara del nostro progetto del 2023 di attività inclusiva all'interno delle scuole attraverso lo sport. Sì, cominciamo oggi una bella gara in concomitanza anche con le gare studentesche. Quanti ragazzi con disabilità partecipano? 25-30 ragazzi con disabilità, più ci sono i loro compagni della stessa classe o della stessa scuola che sono qui a fare le gare insieme. Gareggiano proprio insieme, sì? Sì, sì, sono insieme. La stessa piscina e i tempi vengono presi singolarmente, e quindi loro si possono inserire nella classifica generale. Un'ottima partecipazione, circa 200 ragazzi di 11 scuole, tra scuole e medie scuole superiori, quindi siamo contenti. È stato un giorno speciale grazie a questi Special Olympics. Sì, è stato un giorno speciale. Francesca fa già nuoto da tanti anni, però partecipare in una gara, comunque con la scuola, organizzata appunto per le scuole o meno, è un segno di inclusione bellissimo. Ci è piaciuto davvero tanto, sia a Francesca e alla mamma. Come ti chiami? Io e... Ciao Simone, sei pronto per la gara? Sì. In bocca al lupo allora, buona fortuna! Tia! Grazie, grazie. Dai che vincerai, vincerò. Quali sono le prossime gare in programma? Il calcio a cinque, che si disputerà a Casate Novo e a Rota a Calozio. Poi abbiamo la gara di atletica leggera, abbiamo le gare di bocce, abbiamo poi un momento importante di prova allo sport l'11 di maggio e il 12 di maggio, in piazza Cassin alla piccola di Lecco e quindi concludiamo con una grande festa in queste gare qui. Inoltre quest'anno facciamo un'attività per le scuole elementari ad Olginate. Grazie. Grazie.